Buonasera, buonasera a voi. Io credo che probabilmente nella maggior parte di noi la domanda sorge spontanea, come da titolo. Ma davvero il popolo ucraino è così stupido da mettere a rischio la vita, il futuro e il presente dei propri figli? E il racconto che continuano a farci è che gli ucraini sono i primi assolutamente a non volersi arrendere, sono i primi a volere continuare a contrapporsi all'esercito russo a costo anche della vita, per difendere la propria libertà e i propri territori. E se solo Zelensky dovesse pensare di adivenire ad un accordo con Vladimir Putin ne pagherebbe delle gravi conseguenze perché avrebbe contro tutto il popolo ucraino. Questo è il racconto che ci viene fatto praticamente tutti i giorni per giustificare in qualche modo il fatto che questo passo, il tentativo di arrivare ad una trattativa, non venga fatto da parte delle autorità ucraine. Ora io nel mio piccolo ovviamente ho cercato e continuo a cercare di capire un qualcosa che dal mio punto di vista è assolutamente inverosimile. Perché mettiamoci nei panni di un padre ucraino, no? Tra l'altro dobbiamo dire che una parte, neanche un terzo degli ucraini hanno lasciato l'Ucraina, sono molto meno perché molti tra l'altro sono anche rientrati. È difficile esso fare delle stime ma si parla di una cifra che è inferiore ai 10 milioni di ucraini, soprattutto donne, anziani e bambini che avrebbero lasciato l'Ucraina. Se fate conto che l'Ucraina è un paese di 44 milioni di abitanti è un 20% se le cifre chiaramente sono giuste. Quindi voi capite che l'80%, quindi circa 35 milioni, sono ancora, vivono ancora in quei luoghi e quindi rischiano tutti i giorni di morire. Specialmente se come abbiamo visto nel video che vi ho presentato nel pomeriggio ci sono dei raid che coinvolgono molto spesso tutta l'Ucraina, non solamente le zone appetibili per Vladimir Putin, cioè il Donbass, ma si è arrivati un'altra volta fino a Leopoli che è vicinissima alla frontiera con la Polonia, si è arrivati nella capitale Kiev con tre morti stanotte. Quindi stavo dicendo, rischiando tantissimo di perdere la propria vita e di far perdere la vita dei propri figli, è soprattutto una cosa della quale pochi parlano. Perché uno al limite, voglio dire, potrebbe anche dire, e questo è quello che ci siamo sentiti dire, che di solito insomma in questi casi si cerca di puntare molto su basi strategiche anche da parte dei russi. Quello che è successo in passato, poi anche se Zelensky ha cercato di strumentalizzarlo, si possono definire o degli incidenti o delle situazioni particolari. Però non è che si ha l'impressione che l'esercito russo avanti sul territorio per uccidere la popolazione ucraina. E quindi stavo dicendo, qualcuno ritiene che sia un rischio, sì ovviamente, perché stare sotto le bombe, anche se ti cade una bomba vicino, per errore potrebbe caderti in testa e quindi uccidere la tua famiglia. Però lo vedono meno come pericolo. Però sicuramente esiste un problema del quale pochi stanno parlando, è che tu praticamente hai tolto il presente ai bambini, hai tolto l'adolescenza a questi bambini. Se poi dovesse essere una guerra, come tanti stanno dicendo, lunga, lunga di anni, voi capite che tutta questa generazione gli hai tolto il presente, gli hai tolto l'adolescenza, quindi un qualcosa che nessun padre dovrebbe e deve accettare. Io mai l'accetterei. Ma veniamo, come vi stavo dicendo, nel mio piccolo, che sto cercando di capire. E ho dei contatti, ovviamente, in Italia con degli ucraini, delle famiglie. Addirittura ho conosciuto anche una famiglia intera dove il padre di famiglia, che non potrebbe stare in Italia perché avrebbe dovuto rimanere in Ucraina, è scappato e quindi hanno anche paura. E quando io chiedo qualche intervista, magari, nell'anonimato, ovviamente, senza essere inquadrati, malgrado questo sono arresti perché, tra l'altro, hanno grande paura di quello che può succedere alle loro famiglie nel caso in cui vengono identificati. Non so se avete visto voi le immagini che ha trasmesso durante un convegno Michele Santoro, dove giovani ucraini vengono presi dalle milizie, soldati ucraini, trascinati, picchiati a sangue per portarli via, per portarli a fare questa guerra. Cioè, delle immagini veramente raccapriccianti, delle immagini violentissime, che mai, ovviamente, vedremo nelle televisioni italiane. Ecco, e queste famiglie mi raccontano che non è assolutamente vero il racconto che gli ucraini vogliono continuare a rischiare di morire e vogliono rischiare la vita dei propri figli. Che questo non corrisponde assolutamente alla verità. Perché altrimenti, se fosse realmente così come da titolo, vorrebbe dire che, insomma, ci troviamo di fronte ad un popolo davvero molto molto stupido, che io non credo sia così. Piuttosto siamo di fronte ad un racconto schifoso e vile da parte del mainstream occidentale e siamo di fronte davvero ad un bastardo che si chiama Zelensky. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.